Se ti piace la frutta Quattro anni Oh merda Vabbè per quattro anni sono stati tranquilli però Quindi ne ha 18 adesso Fanculo Ehi Buongiorno Scusa stavo ancora dormendo Dammi un minuto e mi vesto Ho sentito che hai avuto una notataccia Io Mi ha baciata Lo sai com'è fatta Dina Insomma non voleva Ops Stavo parlando della lite con Seth Aspetta hai baciato Dina Dina ha baciato lei Pensavo che Ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei È vero No Forse voleva solo Praticamente Dina è bisex E Ellie È proprio Omosessuale Sì sì tutti dicono così Non mi interessa Poi dopo Stalker Ma è stato un pessimo gesto Prendi la tua roba Siamo in ritardo Ok beh L'inizio è un po' come l'uno Che inizi nella casa vagando Così a random Tra le varie cose che hai Non mi pare niente di nuovo Ovviamente Dono esplorazione veloce Ma non c'è niente da prendere Ok Certo Andiamo Prendi il coltello Che ti serve Joel è sveglio Hanno avvistato degli infetti a notte Maria l'ha mandato a vedere con Tommy Che sfiga Sì Dubito Abbiamo dormito molto Di sicuro O meno di te Smettila Stavo per alzarmi Davvero Hai tutto? Sì E allora vamos Oh pare di giocare il capitolo Quello di Dei cannibali Di David Della baita Pare praticamente Di essersi fermati lì Ripeto con questa grafica Due volte Perché? Correggimi se sbaglio Hai baciato Dina Basta Joe ha spinto Set A definirti come una Parola spiacevole Certo E Joel l'ha steso L'ha solo spinto Poi te la sei presa con Joel Questa parte non mi torna È stata una serata assurda Chissà che spasso Maria vuole parlarti Dove è adesso? Al ristorante Posso già usare lo zaino? Sì Solo il kit medici però Dille che non mi hai visto No Ehi da che parte stai? Come scusa? Tre in tutta Un adulto Tutto Ehi Quindi Nessun problema Giusto? Tra noi due? Sì Certo Io e Dina abbiamo chiuso Certo sicuro Lo so Ma non vorrei pensarsi che Ellie Nessun problema Giuro Grazie Quindi i maschietti Sono fatti così Io non mi identifico In uno di loro Promesso Comunque c'è Molta più vita Attiva in giro Molte più persone Una bella grattata Le zone di quarantena Sono più grosse Sono anche più tranquille Insomma Tutto diverso Da quello Che Si vedeva Nel primo capitolo Dove praticamente C'erano Lande desolate Di infetti Sull'ande desolate Di infetti Comunque entriamo Vuoi fare colazione? No Il cornetto e brioche Per favore E un cappuccino Perché ne prendo sempre due Al bar la mattina Uno alla crema E uno al miele Tanto non gli pago un cazzo Set ha qualcosa da dirti Non ho voglia di stare a sentire quel bigotto Fallo per me Ti prego Ok Set Set vieni Ah Senti Il bigotto Senti Ieri sera È solo che Ho bevuto troppo Certo E voglio chiederti scusa Maria Maria mi diceva che tu e Tina Siete di pattuglia Io Io ho fatto dei panini Ok Le carne Umana Grazie No vabbè Quel capitolo è già passato Già Beh allora Sta attenta Sì Che cosa hai lì Baguette bigotte Che profumo Sono tua Sicura Certo Li accompagno fuori Ok Lei proprio non vuole avere a che fare con quell'uomo Cioè gli vendesse anche l'oro Lei lo rifiuterebbe Beh Abbastanza corrente però come cosa Non si può disprezzare Voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel Quei due sono in ballo da troppo tempo Dove li trovo? Sale all'avamposto di nord ovest Loro arriveranno in giornata Ma occhi aperti Ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più D'accordo Volevo controllare la zona del torrente Dovrà farlo qualcun altro Ellie Conosci la zona? Non molto Più o meno Dina c'è stata spesso Vi manderò insieme Problema risolto Ellie Posso parlarti un secondo? Dimmi Non so che problemi abbiate tu e Joel Maria Lui ti vuole bene sul serio? Sono certa non intendesse È tutto ok Sicura? Sì Mi sa che Joel ha confessato la verità Scusa l'imvadenza Sta attenta Grazie Ehi Dina Le assegnazioni Dammi un minuto Puoi portare la tua ragazza alla stalla Oh mio dio Simpatico il bambino vero? Ehi Dina Posso parlarti? Ehi ragazzi Mi sa di no Andare Ma poi torni Ehi 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 Ehm Volevo scusarmi per essere scappata ieri sera Oh è tutto ok Sì lo capisco Io È che mi sento in colpa Perché? Perché Ho cominciato io e Insomma non avrei dovuto baciarti di fronte a tutti Eri ubriaca succede Beh comunque non voglio che tu pensi No non ho pensato niente Lo sai perché mi piace? Perché mi lasci finire le frasi Va bene Forse dovremmo andare Che bello Che romanticismo moderno Ma che cavolo Io non sto giocando Ehi te la fai sotto Te la fai sotto Detesto quel moccioso Gli diamo una lezione? Sì certo Ve la siate cercata? Pronti a scappare stronzetti? Merda Nascondiamoci Via Via Non è giusto Eccoci Primo punto perdenti Oh no Vabbè Con tutte le molotov lanciate Te ne becchi un'altra Ah ti è piaciuto? Ai Merda Ma al diavolo quelle braccia Oh Oh Vengo a prendere a casa e ti meno Dico sul segno Aia Mmm Siamo già pari Ah ti conviene scappare E' veloce Prendi questa Vieni qua Vieni qua Che ti vizio Vieni 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 Tre Avanti Tu stronzo Fanculo Non vale Così imparate Eh Certo te non hai fatto proprio nulla eh No Prendila Ma aiuto Lei è proprio Descansata Anzi forte se le sono fatte dare Va bene Basta così Abbiamo da fare ora Ma No Ma cogliere un bimbo manco per sbaglio eh Sì Non ti sbaglià zia Ovviamente qua non scavalca Qua c'è da aprire il cancello Giustamente Vuole che seguia molto Torrente Lui sostituirà Joyle e Tommy Oh E' bello che ci abbia messo in compie Piacerà questo percorso Buongiorno ragazze Buongiorno Buongiorno No Porto dentro Bravo Grazie Credo che qua ci sia da reperire un cavallo Due realtà Però parlavo in prima persona Singolare Sì brava Guarda chi c'è Grazie Forza Ok Guarda chi è arrivata Sì 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 Uno per te Il fucile anti clicker Partiamo all'esplorazione Datemi a sentire Nella La prima parte Dina schiocca la lingua Minchia manco fosse Un gioco per non udenti Vabbè Partiamo all'avventura Partiamo all'avventura Partiamo all'avventura